Inizia questo momento il secondo tempo dell'incontro serenissimo a Giacusano, terza ottima partita del girone finale del torneo di Buviso Masciago, categoria 2007. Il risultato è sempre 1-0. Oh che tiro fantastico! Tiro conclusione fantastica di Matteo Moschini che trova un Eurogoal che porta al pareggio. Risultato di 1-1. Stasera abbiamo visto veramente un grandissimo gol di Capitana Matteo Moschini. Coastalолini Lugane, te lo devo dire io! Te lo dotevo dire io e sediaia! Tienila, tienila! Metto! Siraagi qui! Sireagi a Martin! Attacca, dai Giorno! Vieni! Chiama della scappa! Chiama della scappa! Pianchia nella scappa! Vambalo! Chiamaci sta palla, Giorno! Chiamaamolo! Parita molto combattuta anche questo secondo tempo, due squadre che non si risparmiano affatto, giocano palla a palla. Con grande intensità. Grazie. 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 Grande conclusione. La palla si passa lateralmente alla destra del portiere della Serenissima Leto. con il fallo di fuoco. Siamo al settimo minuto di questo secondo tempo. Il risultato è fermo sull'1-1. Trasenissima di Giacusano. Trasenissima di Giacusano. kickblico Orq. Blazar-betalo. Bravo. Bravo. Bravo Fra 생겼so. population. Migità railsamerata. ило. No. Vai, vai, vai. Preza. 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 Venimo. Mol gamma. mala gara. Vai Maceo. Al cornhada. Tevo. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti.